Raggiungi la scuola a piedi, eviterai di ingolfare il traffico, di inquinare l'ambiente con gli scarichi dell'auto, imparerai ad essere più responsabile sulla strada e sicuramente ti farà bene al fisico e alla salute. E questo è il messaggio che è venuto fuori dalla corsa inaugurale del servizio Piedibus, un autobus speciale perché si muove con i piedi dei piccoli alunni, dell'autista e del controllore. Ad attivarlo è stato il comune di Sapri nell'ambito dei progetti a favore della mobilità sostenibile. Coinvolge i bambini della scuola primaria, i piccoli raggiungono il capolinea con lo zaino, indossano la mantellina ad alta visibilità fornita dal lente locale e alle 8 in fila indiana iniziano ad avviarsi verso la scuola accompagnati da due adulti, l'autista che sta davanti e il controllore in coda alla fila. Lungo il percorso il Piedibus è sosta per accogliere gli altri viaggiatori che attendono alle fermate previste per il pulmananti inquinamento. I bambini che hanno preso parte alla corsa inaugurale hanno vissuto l'attivazione del Piedibus con grande entusiasmo e curiosità. Qualcuno di loro ha pensato che prenderlo significava evitare il giorno di scuola e rimasto deluso quando si è ritrovato puntuale all'ingresso dell'edificio scolastico. Ad attenderli c'era il sindaco Giuseppe del Medico. Sono felice e ha detto che questo progetto sia giunto alla sua fase di attuazione e sono sicuro che i bambini e i genitori ne apprezzeranno l'utilità pratica ma soprattutto educativa nel rispetto dell'ambiente e nella consapevolezza delle norme comportamentali della strada attraversando in sicurezza i luoghi della nostra città. Il servizio Piedibus è inserito nel progetto Garanzia Giovani finanziato dal Comune di Sapri. Coinvolge dieci ragazzi che hanno curato la progettazione e l'organizzazione delle corse. Viene attuato con successo in molte altre città italiane e premiato dalla Comunità Europea come una delle migliori buone pratiche di mobilità sostenibile. Perché continui a camminare anche a Sapri precisa il sindaco è importante la collaborazione delle famiglie e dei volontari.